Sì, ancora. Sua eccellenza e illustrissimo professor Gino Ferretti, rettore magnifico dell'Università di Parma, gentile professore. Bombardati come siamo quotidianamente da ogni genere di informazioni, vorrei segnalare la sua attenzione e la straordinaria, innata, istintiva capacità di comunicazione del direttore generale del Parma Pietro Leonardi. L'ultimo episodio in ordine di tempo, quello della notizia dell'acquisto dall'Inter del calciatore brasiliano Jonathan, è stato un fuggido esempio di come diffondere in tempi diversi, con verità e bugie a fin di bene opportunamente miscelate, la notizia, l'annuncio dell'ingaggio naturalmente pro Parma, ottenendo alla fine l'esito voluto. Per questo e tanti altri esempi, esimio professore, Pietro Leonardi è persona degna e meritevole della laurea honoris causa in scienze della comunicazione, titolo accademico che ella vorrà considerare di assegnarmi. Benissimo, grazie Renato, andiamo dall'altra parte dell'ordine.